Abbiamo dato in carico agli uffici tecnici comunali di attivarsi con urgenza per il ripristino della strada litoranea di Tonnarella, crollata in seguito agli eventi calamitosi dello scorso inverno. Si tratta di una spesa elevata, ma necessaria, senza la quale la stagione balneare alle porte sarebbe seriamente compromessa. Questi lavori saranno comunque parte di un progetto più ampio di sistemazione definitiva dell'intero litorale. Lo ha dichiarato il sindaco di Mazzara del Vallo, Nicola Cristaldi, al termine della riunione operativa per il ripristino della strada sul lungomare Fata Morgana. Questione libica e pescatori siciliani e mazzaresi, in particolare il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro Gentiloni, scrivono al presidente del distretto della pesca siciliano Tumbiolo, fornendo assicurazioni sull'impegno dello Stato per la difesa dei marittimi. Per il momento però restano da evitare le attività di pesca nelle acque prospicenti la Libia. E' in atto una riflessione approfondita con tutte le amministrazioni interessate sulle misure necessarie a meglio tutelare il nostro naviglio nell'area. Le confermo che non appena ve ne saranno le condizioni sarà riavviata un'azione ad ampio raggio a sostegno degli interessi italiani nel settore. Questo quanto si legge nella lettera scritta dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, anche a nome del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E' la risposta alla richiesta consegnata personalmente presso la residenza dell'ambasciatore d'Italia Tunisi dal presidente del distretto della pesca siciliano Giovanni Tumbiolo, sollecitato dal coordinamento filera ittica Mazzara, che aveva chiesto il pattugliamento delle zone di pesca antistanti le coste della Libia con navi militari italiane al fine di garantire la sorveglianza dello spazio marittimo in acque internazionali. Il coordinamento aveva sollecitato, incontrando nei giorni scorsi anche l'eurodeputata siciliana Michela Giuffrida, il ripristino del regime di sicurezza in quelle acque, venuto a mancare da quando la Libia nel febbraio 2005 ha esteso unilateralmente la propria sovranità fino al limite di 74 miglia marine dalla costa, impossessandosi di fatto delle zone più pescose, in particolare per la cattura dei gamberi. Mattarella e Gentiloni, oltre a fornire rassicurazioni circa l'impegno dello Stato italiano per la difesa dei pescatori siciliani e per una futura cooperazione italo-libica nel settore della pesca, hanno tuttavia invitato all'adozione di ogni cautela, sconsigliando almeno in questa fase le attività di pesca in acque prospicenti la Libia. I pescatori siciliani e in particolare quelli mazzaresi vivono da anni praticamente in trincea, pagando un prezzo altissimo per il proprio lavoro. 130 pescherecci sequestrati da unità militari navali dei paesi riveraschi, 5 dei quali definitivamente confiscati. Oltre 350 pescatori hanno subito la detenzione forzata nelle carceri tunisine, libiche ed egiziane, 3 morti sul campo e oltre 10 feriti tra i marittimi sotto i colpi d'arma da fuoco dei militari stranieri. 30 milioni di euro sono stati sottratti in ammende, riscatti e multe, ben superiori i costi sostenuti a causa del fermo forzato delle imprese, dovuto al sequestro del pescato, delle reti e delle attrezzature, stimabili in oltre 60 milioni di euro, senza contare il danno sociale e umano che ha colpito l'economia delle famiglie, dei marittimi e degli armatori e costretto al fallimento molte imprese siciliane, mettendo in crisi l'intera filiera della pesca e le attività connesse. È un prezzo, aggiunge Tunghiolo, che prima o poi qualcuno deve ripagare alla nostra comunità, che si è impoverita per colpe non proprie. La Giunta Municipale di Mazzara del Vallo ha approvato tre progetti di edilizia scolastica per un investimento complessivo di 2 milioni 640 mila euro, dei quali 2 milioni 400 mila a totale carico della Regione, avendo partecipato al relativo avviso pubblico denominato Mutui per l'edilizia scolastica, l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 20 marzo scorso. La Giunta, attraverso il coordinamento degli assessorati comunali alla pubblica istruzione e ai lavori pubblici, ha deciso di partecipare all'avviso con i progetti relativi alla Scuola Elementare e Materna Santa Gemma, all'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino e al primo circolo didattico Daniele Aiello, Scuola Elementare e Materna. ZTL a Partinico si cambia ancora, si torna al vecchio assetto con le out of limits nel centro storico tutti i giorni e la terza modifica che viene fatta nell'arco di quattro mesi e si potrebbe ancora cambiare, infatti la zona a traffico limitato è stata introdotta solo fino a settembre. ZTL o non ZTL, questo è il problema di vieti che appaiono e scompaiono in un batter d'occhio tra provvedimenti sperimentali e richiesta dei commercianti, lotte che furono degli ambientalisti e polemiche. Dopo quattro mesi e mezzo il sindaco di Partinico Salvo Lobiundo, raccogliendo una proposta del comandante di Polizia Municipale Giuseppe Russo, ha deciso di fare nuovamente dietro front, si torna all'antico con la zona a traffico limitato tutti i giorni. Così è stato deciso Nero su Bianco con l'ennesima ordinanza che rischia anche di ingenerare una certa confusione nei cittadini. Le auto tornano ad essere off limits tutti i giorni e non più soltanto i fine settimane e i festivi. Il divieto dal lunedì al sabato è fissato sino al prossimo 30 maggio, dal lunedì al sabato dalle 18 alle 20, mentre la domenica e i festivi dalle 9 alle 20. A partire dall'1 giugno scatterà invece l'orario estivo con prolungamento della chiusura sino alle 21. L'aria interdetta al traffico resta sempre la stessa, da via Papa Giovanni XXIII a via Castiglia, compreso Piazza Duomo e via Francesco Crispi. A risaltare all'occhio è il fatto che questa non è una scelta definitiva, quindi ci potranno essere ancora modifiche. Infatti viene sottolineato che si tratta di limitazione temporanea e sperimentale. Effettivamente l'ordinanza avrà effetto sino al 30 settembre, quello che poi accadrà non è dato a sapersi. In deroga poi alla ZTL ci sarà la possibilità di effettuare degli attraversamenti che sono consentiti nella via Crispi, agli incroci tra Piazza Verdi e via Crocifisso, le vie Erchimede a Tosco e le vie Empedocle e la Spia. Allo stesso modo su Piazza Duomo saranno consentiti gli attraversamenti dalle vie Tenente Lafata e Vittorio Manello Orlando e dalle vie Capodellacqua a Sant'Annuzza, ad eccezione dei giorni festivi dalle 18 alle 20 sino al 31 maggio e dalle 18 alle 21 dall'1 giugno al 30 settembre. La ZTL venne revocata in seguito ad una pressante richiesta dei commercianti e dalle organizzazioni di categoria che misero in risalto la necessità di garantire il passaggio alle auto anche per vivagizzare il centro storico a seguito di una serie di episodi di microcriminalità. Il transito dai veicoli era visto come una possibile rivitalizzazione che può diventare un deterrente per i malintenzionati. Gli esercenti sono inoltre convinti che l'eliminazione della zona traffico limitato nel centro storico durante la settimana possa favorire in qualche modo gli acquisti. Il primo cittadino deciso di mettere in discussione l'argomento in Consiglio Comunale che a maggioranza votò per l'appunto nel novembre scorso questa eliminazione della ZTL nei giorni feriali. Da lì poi la Giunta, che ha competenze esclusive in materia, decise di revocare parzialmente la chiusura del centro storico. Con ogni probabilità l'idea è quella di abrogare nel corso della settimana la zona traffico limitato nel periodo invernale, quindi da ottobre a marzo. Possibile che si assisterà ad una nuova ordinanza fra sei mesi. È stata convocata per giovedì prossimo, 9 aprile alle 19, l'Assemblea degli Iscritti del Circolo del Partito Democratico di Castellammare del Golfo che si svolgerà presso la sede di Corso Garibaldi. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo 2014 e del preventivo 2015. La relazione annuale sull'attività del circolo e gli aggiornamenti amministrativi. Ne dà notizia il segretario Francesco Gianquinto. Un weekend all'insegna della cultura e dell'arte con musei e parchi archeologici da visitare gratuitamente in tutta la Sicilia. Tante le famiglie e i turisti che approfitteranno delle giornate festive di Pasqua e Pasquetta per fare il pieno di cultura diversi i siti aperti anche in provincia di Trapani. Sentiamo quali. Tutti i musei, le zone e i parchi archeologici della regione siciliana saranno aperti la domenica di Pasqua con accesso gratuito. Mentre il lunedì dell'Angelo sarà garantita l'apertura dei siti di maggiore interesse per la fruizione turistica. Lo ha disposto l'assessore regionale ai beni culturali Antonio Purpura. Il sito web del Dipartimento dei beni culturali è aggiornato con le indicazioni delle disponibilità dei siti visitabili, con gli orari di apertura e le modalità di accesso. I musei, le zone e i parchi che saranno aperti il lunedì di Pasquetta sono quelli che hanno registrato nel 2014 un numero di visitatori pari ad oltre il 90% del totale accolto da tutta la rete museale dei siti archeologici della regione. In provincia di Trapani saranno aperti il parco archeologico di Segesta, quello di Selinunte, il museo Lilibeo a Marsala, quello del Satiro a Mazzara del Ballo, il museo Pepoli di Trapani. A questi si aggiunge per l'appuntamento ormai permanente con la prima domenica del mese il castello Grifeo di Partanna, dove alle 11 di domani è prevista anche una visita guidata gratuita curata dal PAM, Prima Archeologia del Mediterraneo. Il castello Grifeo, il cui edificio risale presumibilmente al XIV secolo, è sede del Museo regionale di Preistoria del Belice. I reperti archeologici esposti sono provenienti in larga parte dall'area di contrada stretto a seguito delle campagne di scavo condotte da Sebastiano Tusa a partire dagli anni Ottanta e da alcune necropoli del territorio belicino con tombe a grotticelle a camera datate media e tarda età del bronzo. Nel percorso della visita anche la Sala delle Armi o Sala del Trono a pianta rettangolare con volta reale è un affresco del XVIII secolo che raffigura il re Ruggero II che sconfigge nei pressi di Mazzara l'arabo Mocarta durante la liberazione della Sicilia dagli arabi da parte dei normanni. Al suo interno è allestita anche una piccola ma pregevole Pinacoteca composta da opere provenienti da alcune chiese distrutte in seguito al sisma del 68 che colpì l'intera valle del Belice. Anche quest'anno la Croce Rossa di Alcamo sostiene la ricerca contro l'AIDS. Anche oggi e domani sarà possibile acquistare un bonsai di Allainz in piazza Ciullo dalle 9 alle 20. È stato scelto questo piccolo albero verde che per sopravvivere ha bisogno di cure quotidiane e continue proprio come quotidiane e continue sono le cure necessarie alle persone con l'HIV spiegano i volontari della Croce Rossa di Alcamo. Scegliere un bonsai dicono significa sostenere le attività di Allainz e finanziare l'informazione, la prevenzione e la ricerca sull'AIDS. Scegliere un bonsai è un modo per ricordarsi che per fermare il virus serve un impegno costante, impegno dal quale dipende la qualità della vita di migliaia di persone in Italia. Intanto il comitato locale della Croce Rossa di Alcamo ha organizzato due corsi di primo soccorso e di educazione sanitaria per la popolazione. Il primo si svolgerà l'11 aprile dalle 16 alle 20 durante il quale saranno spiegate le manovre salva vita pediatriche di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree. Il secondo corso si svolgerà il 12 aprile dalle 8.30 alle 13 sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione del soggetto adulto e pediatrico e la rianimazione cardiopolmonare del lattante. Ed era questa l'ultima notizia, adesso la consueta rubrica a tre minuti con clic curata dal professore Vincenzo Lucchese. Noi invece ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e felice Pasqua a tutti.